Buonasera, è il mio turno, stavo già impianto lì ieri, allora di 40 dì più 40 perché l'altro partire da ieri a Giù ho fatto i 40 anni, ha detto tu faccio tutto stanno, festa ha detto, no? Gli artisti, però per esempio tutti stanno, tutti stanno, faccio i motori, 40 dì più 40, passo la parola a Marcello, signori in silenzio, i bicchieri, facciamo un applauso che ci ha fatto i 40 anni ieri. Io sono il mio quanto io, 40 anni, la giornata di pubblico, 20 anni fa, 20 anni fa, la voglia poi veramente tanta, lancia pure all'upi 40. A cancello un guagno, a cancello un po' e a faccio il caso non sopporta. Va bene, va bene, Cristina, dai, dai, dai. Io non ho visto sopporta, io la signo, sopporta, è diverso. No, sopporta, non sopporta. Grazie a tutti i maestri, sono un aspetto da Giù Cianello a Diceno. Scusate, c'è l'Antonio, è un picchierio di mell'Antonio. Scusate, c'è l'Antonio, è un picchierio di mell'Antonio. E' vero, vero, vero. L'Antonio è un picchierio di mell'Antonio, è un picchierio di mell'Antonio. E' vero, è vittima di un'Antonio, signore, perché... Un'Antonio... Questo è il mio, è stato scommato, ma stanno a battaglia un raffoniamato. Grazie